È stato approvato in Consiglio Comunale a Viadana il nuovo piano di governo del territorio. Sono state votate un centinaio di osservazioni presentate dai cittadini privati e dalle aziende. Si dice soddisfatto il sindaco Nicola Cavatorte in quanto sta volgendo al termine un iter lungo e complesso che dura da anni. La prossima fase è quella delle pubblicazioni sul bollettino del comune iter a carico dell'ufficio tecnico e degli urbanisti e che avrà una durata di circa tre mesi come i tempi previsti dalla normativa. Nonostante le osservazioni, la maggior parte delle quali sono state peraltro accolte, permangono gli indirizzi politici generali prefissati che emergono anche dal programma elettorale dello stesso Cavatorte e delle sue liste nel 2020. Le disposizioni regionali contro il consumo del suolo prevedono una riduzione almeno del 25-30% del suolo edificabile. A tal proposito, spiega Cavatorte, nonostante le richieste di alcune aziende consolidate sul territorio di poter ampliarsi che come amministrazione comunale abbiamo accolto favorevolmente e positivamente, abbiamo ridotto ben del 64% le aree urbanizzabili, passando dai quasi 200 ettari previsti nella variante del 2011 ai 71 del PGT appena approvato. È stato fatto un ottimo lavoro, secondo Cavatorte, che ha visto coinvolti urbanisti, ufficio tecnico e amministrazione comunale in un'ottica completamente nuova rispetto ai decenni passati, senza interessi di parte, con obiettività e trasparenza in un lavoro che contribuirà positivamente al futuro di Viadana. Ringrazio tutti, spiega sempre il Sindaco, perché hanno apportato il loro contributo positivamente, liberi da ogni coercizione partitica o di altra natura.